Nei giorni scorsi tensioni in Consiglio Comunale per l'approvazione del bilancio. Cosa è successo? Facciamo il punto della situazione con il consigliere comunale Luigi Caldarola. Mi dispiace dover ritornare sull'argomento, ma è stato quasi doveroso una replica a quella che è stata quella del Presidente. In realtà in Consiglio Comunale è stato un episodio dettato da un momento di tensione dovuto a una mancanza del rispetto del regolamento comunale. Perché in realtà in quel momento è stato leso un diritto non solo a me come consigliere comunale, ma all'interassise. Perché non è stato possibile avere un parere da un organo, quello dei revisori contabili, che è fondamentale, soprattutto in un momento di approvazione del bilancio, che voglio ricordare è l'atto fondamentale di un'amministrazione in cui si dettano e si cerca di delineare la linea e la prospettiva della città. Cos'è che ha scaturito il suo dissenso? Il mio dissenso è dovuto al fatto che costantemente il Presidente del Consiglio Comunale viola il regolamento. In realtà ad oggi posso affermare con certezza che il Presidente non è più un Presidente super partes, anzi è un Presidente di maggioranza, di quella maggioranza che ho definito più volte e continuo a definire abusiva, perché il Presidente non usa due pesi e due misure. In realtà imbavaglia l'opposizione cercando in qualunque modo di non farci parlare e di toglierci la parola. Questa è la verità. Il Presidente oggi non è più super partes, anzi gli faccio un invito, visto che lui è stato eletto con quella maggioranza che era legittimata, con quei voti di quella maggioranza legittimata, si vada a dimettere. Si vada a dimettere e dia la possibilità all'Aula, alla sua maggioranza attuale, di riproporlo come Presidente e di essere garante di nuovo del Consiglio Comunale. Lui non solo viola il regolamento del Consiglio Comunale, perché quando mi allontana, io non sono stato regadarguido per la seconda volta per iscritto a verbale, vengo allontanato senza subire il secondo ammonimento, come è possibile vedere dei video dell'emittente che stava trasmettendo. Quali sono le tre pregiudiziali proposte? La prima delle pregiudiziali era una pregiudiziale riferita alla pubblicazione degli atti. La seconda pregiudiziale che abbiamo posto è che l'assessore ai lavori pubblici attuale in carica è comunque in una condizione di conflitto di interessi, quantomeno politico, perché ha votato quella delibera di bilancio e ha violato l'articolo del Tuel che non consente a coloro che hanno dei parenti fino al quarto grado di prendere parte a delle votazioni che possano condizionare l'indirizzo dell'amministrazione. E la terza è proprio quella che citavo prima, nella delibera 367 di Giunta Comunale, che è una delibera allegata al bilancio in cui vengono espressi gli agenti contabili, l'amministrazione comunale ha provveduto con successiva delibera a trasferire, quindi a rendere manchevole quella delibera uno dei soggetti che era stato individuato. Ebbene, io ho chiesto in Consiglio Comunale se i revisori contabili fossero a conoscenza di questo trasferimento e se questo trasferimento avrebbe potuto in qualche modo condizionare il loro parere, che era stato reso nei tempi utili e che comunque in quel momento poteva delineare una probabile non veridicità degli atti che gli erano stati sottoposti. Crede che però queste discussioni così animate agli occhi dei cittadini possano minare la fiducia delle istituzioni? Assolutamente sì, però la verità va detta. Le discussioni nascono perché non c'è la possibilità di avere le delucidazioni necessarie agli atti del Consiglio Comunale. Questa è la verità del perché poi si alzano i toni in Consiglio Comunale, perché è sotto gli occhi di tutti che da quattro consigli comunali costantemente viene violato il regolamento e vengono violati gli statuti. Tant'è vero come è possibile evidenziare dai video, ci sono delle persone che inviscono non solo contro di me ma contro l'intera assise, dicendoci delle ingiurie e minando la credibilità del Consiglio Comunale. Questi sono gli atti che il Presidente del Consiglio dovrebbe controllare e non venire a dire che l'opposizione si organizza per sobillare il Consiglio Comunale, perché non è così. Noi semplicemente stiamo cercando di far rispettare le regole e chiediamo di avere la possibilità, così come dà la possibilità ai consiglieri di maggioranza, di ricevere tutte le spiegazioni del caso, così come la legge ci chiede.